In questo video menzionerò 10 problemi comuni che i veicoli utilitari sportivi Toyota RAV4 dal 2006 al 2012 sono inclini a sperimentare. Numero 1. Alcuni modelli dal 2006 al 2008 dotati di motore a 4 cilindri da 2,4 litri tendono a bruciare l'olio motore. Il problema è solitamente causato da un'usura anomala dei pistoni e delle fasce elastiche del pistoni. Numero 2. Le filettature delle tre viti anteriori centrali e quattro delle viti posteriori che fissano la testa mostrata sullo schermo. In alcuni dei blocchi di alluminio dei motori da 2,4 litri in alcuni di questi veicoli sono soggetti a grippaggio. Questo problema provoca una perdita di refrigerante nella parte posteriore del motore vicino al firewall e provoca anche il surriscaldamento del motore. Questi fili danneggiati possono essere riparati con il kit di riparazione TimeSert 2200 mostrato sullo schermo. Numero 3. La vernice esterna bianca su alcuni di questi veicoli tende a staccarsi. Numero 4. La marmitta di scarico tende ad arrugginirsi e a strapparsi, facendo suonare lo scarico del veicolo come un vecchio trattore agricolo. Numero 5. L'accoppiamento del differenziale posteriore nei veicoli che hanno più di 120.000 km tende a fare rumore quando il veicolo è in movimento e deve essere sostituito. Numero 6. La pompa dell'acqua su alcuni di questi veicoli dotati di motore a 6 cilindri da 3,5 litri è soggetta a rumore. È anche soggetto a perdite di antigelo da 130.000 a 150.000 km e deve essere sostituita. Numero 7. L'albero dello sterzo intermedio su alcuni di questi veicoli è soggetto a rapida usura. Questo problema provoca rumori metallici quando si gira il volante da un lato all'altro e durante la guida su strade sterrate. Numero 8. Gli ammortizzatori delle sospensioni posteriori su alcuni di questi veicoli tendono a perdere liquido e devono essere sostituiti. Numero 9. Il compressore dell'aria condizionata in alcuni di questi veicoli è soggetto a guasti prematuri. Ciò fa sì che il sistema di climatizzazione non emetta aria fredda. Numero 10. I cuscinetti delle ruote anteriori su alcuni di questi veicoli sono soggetti a rumore tra 100.000 e 110.000 chilometri e devono essere sostituiti. Questi sono 10 problemi comuni che i veicoli utilitari sportivi Toyota RAV4 di terza generazione sono inclini a sperimentare.